Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di personale su strada in A1 tra Sasso Marconi e Calenzano nelle due direzioni. In A11 segnaliamo la presenza di veicolo fermo in avaria tra Chiesina e Monte Catini Terme verso Firenze e in carretta opposta tra B11 raccordo Lucca-Viareggio e B11 raccordo a 12 Genova-Rosignano-Marittimo. Siamo al traffico urbano di Firenze e ricordiamo che per operazione di soccorso nell'area Via Mariti, Via del Ponte di Mezzo, Via dei Marignolli è stata istituita la chiusura di Via del Ponte di Mezzo da Via Mariti in direzione Via del Massaio e di Via Giovanni da Empoli provenendo da Via dei Marignolli. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Mero-Britana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Grazie a tutti.